buongiorno siamo nella campagna bellissima di santa maria in baro qui abbiamo un impianto dal quarto anno quindi siamo al terzo anno di produzione e vediamo una produzione spettacolare e qui abbiamo il nostro amico ennio dinunzio che è il titolare nonché la persona che ha dato vita a questo impianto allora come come ti sei trovato con questa varietà vediamo una produzione spettacolare quest'anno che non c'è quasi niente negli altri olivi tradizionali sì quest'anno sono contentissimo della risposta che ma che ha dato l'impianto rispetto agli altri come si può vedere ecco facci vedere qualche grappolo di queste olive vedere l'ulivo ce ne abbondanza spettacolare e poi tutte le piante sono tutte con la stessa quantità di olive quindi una cosa incredibile una costanza incredibile hanno messo una costanza di olive tutte un impianto di quattro anni e ogni anno con una crescita quasi del 40 e 50 per cento di produzione ecco ricordiamo che al secondo anno tu hai già prodotto secondo anno ho raccolto una resa di 50 quintali a ettaro al secondo anno ecco ricordiamo una cosa incredibile hanno fatto una raccolta di 70 quintali a ettaro e quest'anno vediamo a che punto e poi lo vediamo dopo quando dopo la raccolta facciamo e vediamo quante che cosa che cosa ci esce quest'anno un impianto spettacolare complimenti veramente grazie